Lo tsunami Renzi travolge anche la provincia di Rimini pur con l'incognita Riccione dove per il dopo a Pironi bisognerà attendere l'8 giugno e Bellaria che ancora una volta conferma all'uscente Ceccarelli sponda centrodestra col 55% dei voti. Per il resto PD ha lanciatratto un po' ovunque nell'amministrazione del Riminese. Sant'Arcangelo riparte dopo il commissariamento con la 25enne Alice Parma che sbaraglia la concorrenza al primo turno in cassa un robusto 52%. A Misano Adriatico l'uscente Giannini raggiunge il 51% dei consensi. Valmarecchi e Valconca l'insegna del centro-sinistra. Nuovo sindaco di Verucchio e l'assessore provinciale Stefania Sabba col 50,23% dei consensi. Talamello rielegge Francesco Golini col 63% dei voti. Fa il bis anche Mauro Guerra a San Leo con il 62% dei suffragi. Conferme a Maiolo, Fattori e Sant'Agata Feltri a Cerbara. Casteldelcio elegge Cappella. Daniele Amati, il nuovo sindaco di Poggio Toriana. In Valconca è ancora tanto PD. Morciano conferma Battazza. San Giovanni Marignano laurea Daniele Morelli. A Mondaino la spunta Giaccolini, Montegridolfo elegge Grilli. Montescuda Elena Castellari. Saludecio Polidori. San Clemente Mirna Cecchini. Montefiore resta una roccaforte nel centro-destra confermando Valli Cipriani. E adesso la coda amministrativa Riccione. Nel dopopironi potrebbe esserci Ubaldi che parte con 8 punti di vantaggio sulla Tosi. Ma come si comporterà chi ha votato 5 stelle? La risposta più attesa nella Perla Verda arriverà solo l'8 giugno.